Don Rodrigo ha scommesso con il Cogino, il Conte Attilio, di avere con sé Lucia entro San Martino, ovvero l'11 novembre. I giorni si stanno avvicinando alla termine della scommessa e il Conte Attilio prende in giro il Cogino. Allora Don Rodrigo, con supponenza, decide di raddoppiare la scommessa. Perché è stata stabilita proprio la data dell'11 novembre come termine della scommessa? Che significato ha questa data nel mondo contadino e agricolo in cui è ambientato il romanzo? L'11 novembre, ovvero San Martino, rappresentava per tradizione il termine e l'inizio dei contratti di affitto per la locazione agricola e abitativa. Per la stessa ragione San Martino diveniva anche data consueta per altri obblighi e impegni. Secondo la tradizione, l'11 novembre avveniva la svinatura, ovvero si estraeva il vino novello dai tini e lo si versava nelle botti dopo la fermentazione. La data sanciva così il termine del lavoro nei campi e l'inizio del riposo. San Martino è per questo associato anche al vino ed è protettore degli ubriachi. San Martino era un soldato romano che visse nel quarto secolo dopo Cristo e che incontrò un giorno un povero mendicante. Faceva molto freddo, il soldato decise di scendere da cavallo, di dividere il mantello e di condividere il mantello con questo mendicante. Di notte a San Martino apparve Gesù Cristo vestito di quel mantello e Gesù disse a Martino che aveva condiviso con lui quel mantello proprio a mostrare che il povero, il mendicante, il bisognoso che noi incontriamo per strada è Cristo stesso. Per tradizione il San Martino è divenuta una giornata più calda delle altre e viene chiamata estate dei morti. La settimana di San Martino, la settimana dell'11 novembre, di solito è caratterizzata da un cielo azzurro e da temperature diverse. Come Pascoli sottolinea nella bellissima poesia novembre, dedicata proprio all'estate fredda dei morti, recita così. Gemmea l'aria, il sole è così chiaro, e tu ricerchi gli abicocchi in fiore, e del punalbo l'odorino maro senti nel cuore. Ma secco è il pruno, e le stichete piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo, e cavo al pietonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate, o di lontano, da giardini ed orti, di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti. Pascoli vede delle immagini, queste piante stecchite che disegnano il cielo azzurro con i loro rami neri, vede un sole che sembra essere raggiante. Questa rappresentazione impressionistica di novembre sembra suscitare nel poeta l'arrivo della primavera, ma in realtà, guardando con più attenzione, il poeta si rende conto che si trova in autunno, perché le foglie stanno cadendo. Le foglie nell'immaginario letterario da sempre, da Omero passando a Virgilio, poi a Dante, hanno sempre rappresentato la caducità, la fragilità, l'aspetto passeggero e transeunte della vita. L'uomo è proprio come una foglia. Un altro grande poeta dell'Ottocento, Carducci, rappresentò San Martino in una borgo toscano. La nebbia agli irticolli, più avvicinando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Carducci, contratti impressionistici ci rappresenta un borgo toscano. Poche pennellate servono a descrivere una natura malinconica caratterizzata dalla nebbia e dal movimento del mare, che è quasi antropomorfizzato, tanto che urla. L'odore dei vini che proviene dai tini e lo spiedo che scoppietta su ceppi accesi amplificano la dimensione multisensoriale del borgo toscano. Tra le vie animate da vite umane, l'attenzione si concentra su un personaggio solitario, una figura che è immersa nella tranquillità del paese, un cacciatore che probabilmente è simbolo del poeta stesso, che osserva uccelli migratori e si assomigliano ai pensieri della sera, quelli che riportano ai cari defunti e al carattere passeggero della vita. San Martino è quindi una giornata particolare che sancisce la fine del lavoro agricolo e l'inizio del riposo. Per tradizione nella mattinata di San Martino i bambini sfilavano per le vie del paese con ceste piene di pane. E proprio nella giornata di San Martino, quando Renzo arriverà a Milano, assisterà all'assalto del Forno delle Crucce e quindi all'assalto ai Fornai.